ottima esecuzione su e ora prova con la scala di do non preoccuparti si commettono sempre degli errori quando si sta imparando dai prova di nuovo vedi è andata molto meglio giù e ora lasciami provare questo nuovo pezzo musicale si bravissima bisnonnina era incantevole oh su come sei carino forza prova tu non suonerò mai bene come te io invece dico di si vediamo che note sono queste la mi re si eccellente su ora devi solo suonarle non temere pregevole bene per oggi credo sia sufficiente di già oh ci sarà un'altra lezione domani non vedo l'ora che arrivi domani mi piace suonare il pianoforte è il mio strumento preferito sono contenta di sentirtelo dire tesoro è sempre stato anche il mio strumento preferito sai a più tardi bisnonnina ciao che succede nonno ah su arrivi in tempo vieni a vedere il mio album nonno sei tu sì sono io quando avevo la tua età sei identico a me già ci somigliamo molto e questo sono io durante un concerto tu suonavi in un gruppo oh sì tuo nonno era un trombettista molto apprezzato quanto mi divertivo e ce l'hai ancora la tua tromba probabilmente sì credo sia da qualche parte nel mio garage nonno andiamo a cercarla deve essere da qualche parte dove l'avrò nascosta insomma dove sarà la mia tromba no qui non c'è ecco la mia palla da basket sei molto più bravo di me a trovare le cose è pesante la mia tromba wow puoi suonare qualcosa per me nonno spero di ricordare come si fa so che ce la farai perché stai facendo quella faccia buffa perché le guance si riempiono d'aria per suonare la tromba devi soffiare con forza ehi sei straordinario nonno posso provarci io certo che sì ma all'inizio potrebbe essere un po' difficile non preoccuparti ti ho osservato oh ma ho fatto esattamente come te certo ma per suonare la tromba devi imparare il modo corretto di soffiare io ho soffiato forte non ne dubito ma non basta vieni con me avanti prova tu non ne dubito ma non basta così è molto facile forse servirebbe una palla più pesante cosa ne dici della mia palla da basket? ottima idea tromba sto arrivando sì così ora prova a soffiare un po' più forte sì è grandioso Zoom e adesso prova a soffiare dentro la tromba tieni le spalle morbide sta rilassato e soffia tutta l'aria che hai nei polmoni oh sì ce l'ho fatta bravo ben fatto Zoom penso che ora tu abbia capito come si fa mi piace molto la tromba è il mio strumento preferito sono felice di sentirtelo dire e adesso ti voglio suonare una bella melodia ascolta bene posso unirmi a voi? non sapevo che avessi una chitarra papà beh non l'ho usata molto negli ultimi tempi posso provare io? certo forse è meglio che avvisi gli altri che c'è un cantante rock in famiglia lascia che ti insegni premi le corde in questo modo e suonale funziona molto bene sei un chitarrista talentuoso Su mi piace la chitarra ora è il mio strumento preferito il mio piccolo cantante ha bisogno di accompagnamento? ehi! che cos'è mamma? questo è un tamburello Bisù forte! ha un suono stupendo mi piace il tamburello è il mio strumento preferito davvero? oh e io che pensavo fosse la chitarra e io che pensavo fosse il piano e io che pensavo fosse la tromba sì ma non so più qual è il mio preferito mi piace sul serio la tromba nonno anche la chitarra e io adoro un sacco anche il tamburello e amo tantissimo suonare il piano in realtà penso che mi piacciono tutti ci sono! posso suonarli tutti insieme così non scontenterò nessuno formirò un gruppo da solo sarò su la zebra band Bisù non credo che la tua sia una grande idea come dici mamma? non riesco a sentirti Zula zebra band sta facendo le prove forse è meglio non ricordare a Zula sua batteria altrimenti anche quella diventerebbe il suo strumento preferito che hai detto mamma? non l'avviso non ho parlato d'accordo mamma Wababababadubidam Tanti auguri a me! Wuhuuu! Sì! Wuhuuu! è il mio compleanno tanti auguri a me Wuhuu! Evviva Sììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Bello! Un tamburino! Però battilo un po' più piano Almeno finché tutti non avranno avuto il tempo di alzarsi per festeggiare il tuo compleanno Ciao! Buongiorno a tutti! Ciao! Ciao, Zinnia! Buon compleanno, Zou! Wow, grazie! Bellissima! Una bambola! Oh, ma se però non la vuoi, Zou! Aspetta, Zinnia! Ti faccio vedere quello che mi è arrivato stamattina! Me l'ha regalato lo zio Ziggy! Lo zio Ziggy vive in Africa! È il responsabile di un parco nazionale! Bene, noi dobbiamo andare! Sì, e se no Zinnia arriverà tardi alla lezione di ballo, vero tesoro? Elevé e plié! Elevé e chiudi! Vieni adesso! Ecco, molto bello! Molto, eh... Molto forte! Già! Senti questo rumore, caro? È un po' difficile non sentirlo! Che cos'è secondo te? Forse siamo stati invasi dai picchi giganti! Che sciocco! Speriamo che se ne saranno andati quando scenderemo per il compleanno di Zou! Zou! Zou? Sì, mamma? È ora di tagliare la torta di compleanno! Perché non vai a chiedere a Elsie di raggiungerci? Subito! Zou? Lascia pure qui il tamburino! Sai, non vorremmo che lo perdessi lungo la strada! Va bene! Potremmo nasconderlo! Meglio di no! È arrivata Elsie, papà! Oh, ciao, Elsie! L'ho portata qui per farle vedere il mio tamburino! Oh! Che? Oh, bene! Dov'è finito? Trovato! Scusa, papà! Zou! Non mi aspettavo che entrassi! Oh, mamma! Che bella torta! Rullo! Rullo! Per la super fantasticissima torta di compleanno di Zou! Oh, Zou! Scusa, mamma! Aspetta! Ma stiamo per cantare tanti auguri! Lo so! E io faccio l'accompagnamento! E uno! E due! E uno, due, tre! Tanti auguri, Zou! Tanti auguri, Zou! Tanti cari cari auguri, Zou! Tanti auguri, Zou! Tanti auguri, Zou! Tanti auguri, Zou! Vieni, Zou! Le candeline! Sono pronto! Urrà! Buon compleanno, Zou! Facciamolo un'altra volta! Forse è meglio mangiare prima un pezzo di torta, Bisou! Il tuo tamburino fa tanto rumore! Però è super, vero? Buon compleanno, Zou! Che succede? Oh, papà! Ti eri addormentato, per caso? Sì, mi ero un po'... Bene! Adesso sei sveglio! Niente mi piacerebbe di più che dormire ancora un po, Zou! Perché non vai a giocare con il tuo tamburino da un'altra parte! Oh, e va bene! Ciao, nonna! Vuoi sentire un esperto del tamburino? No, non per il momento, Zou! Ma forse a te piacerebbe preparare un dolce! Biscotti con gocce di cioccolato? No, grazie, nonna! Devo esercitarmi col tamburino! Sì, ma potresti esercitarti da qualche altra parte, Bisou? Va bene! Vado a trovare il nonno! Ciao, nonno! Ti andrebbe di ascoltare un bravo tamburino? Oh, 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 sì, molto! Nonno! Sei un bravo tamburino, Zou! Ma forse dovrei accompagnarti! Anche tu hai un tamburino? No, ho qualcosa di molto meglio! Seguimi! Devo averla messa da questa parte! La mia vecchia tromba! Bene! Facciamo un po' di musica! Zou! Lo so che è il tuo compleanno, però... Vai a suonare con la tromba da un'altra parte! Zou? La mamma dice se puoi fare un po' più piano, per favore! Nonno! Ci sono persone che non hanno orecchio musicale! Bisnonnina! Ciao, mio caro Zou! Eri tu che facevi tutto quel rumore poco fa? Sì! Lo zio Ziggy mi ha mandato un tamburino, è arrivato dall'Africa, ma nessuno vuole sentirmi suonare! Ah, capisco! Bene, vediamo che cosa si può fare per aiutarti! Si è fatto un gran silenzio d'improvviso! Beh, abbiamo chiesto a Zou di non fare troppo rumore! Vorrei tanto sapere dov'è finito! Forse è al piano di sopra dalla nonnina? Oh, vado io, bisnonnina! Zou? Come mai tutto questo silenzio? Hai smesso di suonare il tamburino, Zou? No, non l'ho smesso! La bisnonnina mi ha insegnato che non serve fare tanto rumore quando si suona il tamburino! Qualche volta è molto più bello suonarlo piano piano! Vieni qui, mio caro Zou! Che idea grandiosa trovarci per organizzare una coreografia, Zou! Sì, balliamo, Elzy! Ehi, Zou, Elzy! Siete pronti ad aiutarmi a preparare la discoteca per questa sera? Oh, sì! Non vedo l'ora! Oh, piano! Non correte voi due! Oh, scusa, bisnonnina, andiamo di fretta! Ehi, questo lo vedo! Dovete aiutare tuo padre con la discoteca? Sì, sarà divertentissimo! Da quello che sento, sembra che la discoteca sia già in camera tua! Oh, scusami! Ho dimenticato di spegnere la musica! Bella melodia! Dovrei provare a suonarla al pianoforte! Non è la musica che fai di solito, bisnonnina! Oh, ciao a tutti! E scatenatevi col ballò! Grazie, bisnonnina! Ci divertiremo! Poc, non è una buona idea usare le... Forse è meglio se ti occupi solo degli adobbi! Povero Poc! Molto bene! Che ne dici se controlliamo l'impianto audio? Buona idea! Una discoteca non è una discoteca senza musica! Ecco qua! Vediamo! Credo che il bottone di accensione sia questo! Sì, è proprio questo! Ehi, grandioso! Proviamo i passi! È già iniziata! È iniziata! La festa è già iniziata! No, Zinnia! Non inizierà prima di questa... Sì! Bravi! Scusa, cara! Anche io voglio ballare! Guardatemi! Sta ballando! Cos'è? Poc, lascia stare i palloncini! Non è stato poco, Zou! Ma cos'è successo alla musica? Eh, strano! Non riesco a capire! Lasciate che dia un'occhiata! Di solito sono piuttosto bravo in questo genere di cose! Non direi proprio! Non ricordi quando hai provato a riparare il congelatore? Ah, certo! È proprio come pensavo! Ecco, basta azionare questo! Fermo, fermo, fermo! Un tecnico geniale! Forse non era il coso, io credo, ecco... No, ma qualunque cosa fosse, temo che bisognerà annullare la serata! Oh, no! Le casce, purtroppo, sono fuori uso! E non basterà armeggiare a caso per rimetterle a posto! Niente discoteca! Niente musica, niente discoteca! Mi dispiace tanto! Aspettate! Il piano della bisnonnina! Che significa il piano della bisnonnina? Perché non lo trasportiamo qui? Così potremmo fare un po' di musica! Ma, Zou, si trova all'ultimo piano della casa ed è molto pesante! Ti prego! Papà! Va bene! Però prima glielo dovremmo chiedere! Sì! Ci aiuteremo! Non è vero, papino? Avanti! Ciao, Zou! Come va? Bisnonnina, posso prendere il tuo piano, per favore? Oh, certo che puoi, Zou! Che cosa vuoi suonare? No, volevo dire se mi lasci portarlo via! L'impianto audio per stasera si è rotto e senza musica non possiamo ballare! Perciò pensavo di portare il piano in palestra! Ti prego! E come farai a portarlo giù da solo, Zou? Ho degli aiutanti! Oh! Eh! Oh, beh! In questo caso puoi prenderlo! Grazie mille! Zou, non hai dimenticato qualcosa? Oh! Dobbiamo portarlo di sotto? Che vuoi che siano due piani, Xavier? Forza! È il mio naso! Sono già scesi di un piano, bisnonnina. Oh, poveretti! Oh, mamma mia! Che cosa succede qui? Ciao, nonna! Stiamo portando via il piano. E come mai? Già, bella domanda! Seguitemi! Sta lontano, Sue! Nessuno si deve far male! Attenzione! Tenete il piano! Troppo tardi! A che punto è il trasloco del pianoforte, Bisù? Siamo veloci, eh, mamma? E non dimenticare di ringraziar... Oh, no! Xavier, ma ti sei visto? Guarda in che stato sei, datti una sistemata. Non preoccuparti, zia Zelda. Avrà tempo di darsi una ripulita. Appena avremo portato il piano in palestra. Credo che dovremmo continuare a spingerlo per tutto il tragitto. Ci sono! Potremmo trainarlo! Spingerlo, tirarlo... È la stessa cosa, Sue. Sarà sempre molto pesante. No! Voglio dire che possiamo trainarlo con l'auto di Zia Xavier. Cosa? Oh, è vero, papino! La tua auto! Ha avuto una bella idea, Sue! Non è vero, papino? Vado a prendere una corda. Urrà per il mio papino! Sì! Ce l'abbiamo fatta! Urrà! Stasera si balla! Stasera si balla! Stasera si balla! Solo che abbiamo dimenticato una cosa. Cosa vuoi dire, Elsie? Il problema è... Chi suonerà il piano? Volete dire che noi abbiamo trascinato a fatica il piano fino a qui e... Nessuno può suonarlo? Oh! Io posso! Che cosa? Forza, bisnonnina! Dubito che sappia suonare musica da discoteca. Non credo proprio che la musica classica sia adatta per ballare. No! Sì! Vai, bisnonnina! È veramente sorprendente! Chi l'avrebbe mai detto? Permetti! Sì! Vai, bisnonnina! Vai! Zù? Oh, sì! Ehi, papà! Grazie per l'aiuto! E grazie anche a te, nonno! Grazie, Zowie! È stato un piacere! E anche a te, Zio Zowie! Non ci saremmo riusciti senza la tua auto! Sì! Bisnonnina, a te il più grande grazie! Questa è la musica più forte di tutte! Oh! Sì! Brava, bisnonnina! Sì! Vai, bisnonnina! Vai! Vai! Al mio prossimo compleanno voglio fare una festa disco sempre con la bisnonnina al piano! Buonanotte a tutti! Oh, buonanotte! Che serata indimenticabile! Bravissima, bisnonnina! E grazie mille! Ciao, papà! Ciao! Buona giornata, caro! Oh! Il tuo papà è già andato al lavoro, Zù? Sì! Oh, che peccato! Pensavo che riportasse a casa il piano! Ora come faccio? Ho preso appuntamento con l'accordatore per questo pomeriggio! Oh, non preoccuparti! Te lo porteremo io e il nonno! Credo sia un po' troppo pesante per voi due! Oh! Non saremo soli! Nonno! Non posso! Mi dispiace molto! Ma chi curerebbe il mio negozio? Ti ringrazio, ma posso benissimo cavarmela da sola, Xavier! E poi c'è sempre Zinnia che può aiutarmi! Oh, sì! Bello, bello, bello! Mi piace giocare al negozio! Non si tratta di un gioco, Zinnia cara! Gestire un negozio come questo non è facile! Sì, e nemmeno spostare un pianoforte! Perciò vai, caro! Abbiamo portato una corda! Così potremmo tirare il piano con la tua auto, Zio Xavier! Ma io non so se... Sì, l'idea di Zoo è bellissima! Oh, papino, è divertente! Yuh! Abbiamo portato i piatti di ceramica che avevate ordinato! Sembra bella pesante! Oh, da non credere! Soprattutto perché l'ho portata sempre io! Cosa? Tu l'avresti portata per tutto il tragitto? Ecco quello che ti serve, Zoo! Un bel paio di zebre forti che mi aiutino! Sì! Dobbiamo spostare un pianoforte! Quello della bisnonnina! Le serve perché nel pomeriggio arriva l'accordatore! Potete aiutarci? Oh, certamente! Lo facciamo volentieri per voi! Sarà un vero piacere! Sì! Potremmo fare un film! Una giornata nella vita di due artisti emergenti! Geniale! Mi spieghi come facciamo a filmarci se stiamo spingendo il piano, Zoroaster? Oh, lo farà Zoo! Gli daremo la videocamera! Oh, sì! Facciamolo! Forza, andiamo! C'è da spostare un piano ora! Che fai ancora qui, caro? Stanno arrivando, Pock! Seguitemi! Bravissimi! Non fatelo cadere! Continuate così! Fate piano, piano! Aia! Il mio zoccolo! Oh, no! Lo fermo io! Bravo, Zio Xavier! Sei stato un eroe! Dipende dai punti di vista! Oh, Zoroaster, ti sei fatto male! Non è successo nulla! Ma guarda, questo era il mio zoccolo preferito! Ecco, ora è pronto per essere trainato fino a casa! Ma niente, graffio la mia auto, altrimenti... Scena due! Il trasporto del pianoforte a casa! Motore, azione! Bene, Zio Xavier! Non andare più forte! Xavier, fermati! No, va tutto bene! Ho tutto sotto controllo! Tranquillo! Suppongo che la corda non fosse fissata molto bene! Dici? Scena tre! Il pianoforte torna a casa! Scena quattro! Il pianoforte è pronto a partire! Di nuovo! Motore, azione! Pronto? Vai! Xavier, attenzione! Che succede in questa casa? Stanno riportando il piano della bisnonnina! Ah, ora capisco! Scusate, vorrei riprendere il fiato! Ho bisogno di riposare! Hai venuto? Che succede? Bellissima scena, Zio Xavier! Dove crede di andare, ci serve il suo aiuto! Avanti, aperto! Piano in arrivo, bisnonnina! Il mio completo! Non tornerà mai più come prima! E adesso sentiamo come suona dopo il viaggio di ritorno! Oh, non importa! Sono sicura che l'accordatore lo farà tornare come nuovo! Però, finché non arriva, sarà impossibile suonarlo! Ehm... Senti, bisnonnina! Guardiamo il film che ho girato con la videocamera di Zoroaster e Zygmunt! Non mi hanno ancora chiesto di restituirgliela! Un film? Oh! Sarà divertente! Bene! Possiamo cominciare! Speriamo vi piaccia! Accendi, mamma! Oh! Ma quello è il piano! Oh! Guardate il nonno! Pronto? Oh, ciao, Xavier! Bisù, è tuo zio Xavier! Vuole sapere se per caso hai visto le sue chiavi! Deve chiudere il negozio, ma non le trova più! Oh! No, mamma! Non le ho mai viste! No, mi dispiace, Xavier! Va bene! Ciao, ciao! Oh, povero Zoroaster! Oh! Oh, povero Xavier! Ci è mancato poco che finisse addirittura dentro il piano! Oh! Ferma, mamma! Ecco! Forse le chiavi sono finite lì dentro! Oh! Tocca a te, Poc! Vai a prenderle! Sì! Ottimo lavoro! Le ha trovate Poc, zio Xavier! Erano nel piano della bisnonnina! Non so come ringraziarti, Zoo! E grazie mille anche a te, Poc! Oh, ciao, Xavier! L'accordatore è arrivato e ora il mio piano suona come se fosse nuovo! Non ti piacerebbe se suonassi qualcosa per te, visto che sei qui? Oh, sei gentile! Mamma non ora, ti ringrazio! In realtà, non so se avrò voglia di sentire un altro pianoforte in vita mia! Oh, non fare lo sciocco, papino! Noi amiamo la musica! Vero che vuoi sentirla? Certo, se lo dici tu, signora cara! Se lo dici tu, certo che sì! Bravo! Il volano mi piace, è il mio gioco preferito! Già! Anche il mio! Ma come farete a giocare senza la pallina da volano? Oh, no! L'ho dimenticata! Prendi! Meno male che ci sono io! Grazie, papà! Oh, Poc! Non è un uccellino! È una specie di pallina fatta apposta per giocare a volano! Guarda! Oh, di solito quando si gioca a volano non c'è la musica! Zu, Elsie, mi dispiace tanto, ma oggi non si può giocare a volano! La scuola di danza ha chiuso per un paio di settimane, devono fare dei lavori! E le lezioni di danza classica si terranno qui! Danza classica? Ciao, Zu! Ciao, Elsie! C'è il corso di danza! Io sono molto brava! Guardate! Zinnia è migliorata, non è vero? Oh, è molto portata! Diventerà di certo una ballerina! Sì! Guardate questo! Oh, come mi spiace! Siete qui per giocare a volano? Sì! Mi è venuta un'idea! Perché non vi unite anche voi alla lezione di danza? Vi piacerà? Oh, sì! Dai! Va bene, sembra divertente! Molto! La danza classica è la cosa più bella al mondo! Oh! Su! Dove mi stai portando? Oh! Vado un momento da Zinnia a dirle che Elsie è rimasta alla lezione di danza! Ok, papà! È inutile che insisti, Pock! La danza è una cosa molto noiosa! Zoo? Credevo fossi a giocare a volano con Elsie! Infatti è così, mamma! Ma oggi non si può giocare a volano perché... Scusami, Zoo! Pronto? Oh, ciao Zelda! Come va? Sì? Il corso di danza? Sì, sono sicura che anche a Zoo piacerà! Ci prepariamo e veniamo subito! Sì! Ciao Zelda! A tra poco! Zoo, metti via la... Zoo? Bisù, dovresti mettere in ordine le tue cose! Bisù? Oh, eccoti qua, Bisù! Ho parlato con Zia Zelda al telefono! Se ci sbrighiamo, possiamo raggiungerla in palestra e... Scusa, ma non posso proprio venire! Devo aiutare la nonna a fare la torta! Ma, Zoo, sei appena arrivato! E devo solo mettere l'impasto in forno! Beh, allora sei libero! Vado a prendere il cappotto! No! Zoo? Ma dov'è Zoo? Non lo so! Era qui un momento fa! Rischiamo di saltare la danza! Danza? Bisù? Sei qui? Sei qui? Ma che sciocca! Non può essere nella vasca! Ciao, tesoro! Stai cercando qualcosa? Oh, sì! Zoo! Zelda mi ha chiesto se a Zoo per caso andasse di fare il corso di danza e le ho detto che l'avrei portato! Ma non riesco a trovarlo da nessuna parte! Tu l'hai visto, mio caro? No, vengo da casa di Zina, ma sono quasi sicuro che a Zoo non piaccia la danza! Ero in palestra ieri quando Zinnaglia ha chiesto di provare! Mi ha trascinato via in fritta e furia! Ha detto che la danza è noiosa! Oh, che sciocca che sono! Glielo avrei dovuto chiedere prima se gli piaceva il ballo! È meglio che gli dica che non andremo! Oh, hai qualche idea di dove sia? Perché non provi in garage? Tornando ho sentito che c'era qualcuno! Ma certo, il nonno! Ecco così, Zoo, tienila ferma mentre finisco di stringere questa vite! Nonno, ma Zoo è qui con te? Sì, mi passeresti la chiave inglese lì davanti a te! Oh, è questa? Sì, esatto! Oh! Che c'è? Il mio piccolo aiutante è sparito! Oh, Bisù! Avanti! Bisnonnina! Posso aiutarti in qualcosa? Non lo so, Zoo! In cosa? Oh, non lo so! Qualsiasi cosa! Zoo, c'è qualche problema? No, è solo che... Io volevo giocare a volano con Elsie, ma in palestra c'era la lezione di danza. Mi hanno chiesto di partecipare, ma il balletto è noiosissimo! Il balletto? Noioso? Sì, tipo questo! Si tratta solo di gironzolare mentre si fanno posizioni lentamente. Almeno con il volano ci si muove velocemente! Oh, Zoo! Mi potresti portare quel libro? Grazie! Sì! Io una volta avevo un amico carissimo che era un famoso ballerino classico, il grande Zienischi! Sì! E si muoveva e come volava! Questo è Zienischi nella famosa interpretazione del pomeriggio di una zebra! Forte! Oh, wow! Zienischi era un ballerino classico meraviglioso! Ne parlavano tutti in città in quegli anni, te l'assicuro! Wow! Sembra davvero fortissimo! E... E... Leggiadro, forse? E atletico? Oh, sì lo era! Di più! Era un angelo! Non l'hai ancora trovato, a quanto pare! Chissà dove sarà andato! Non sono ancora passata a controllare dalla bisnonnina! Oh, avanti! Bene così, Zou! Allunga la zampa dietro, alza un po' più la testa... Delizioso! Oh, eccellente, Zou! Anche tu sarai un vero ballerino! Il papà mi ha detto che... Tu pensi che il balletto sia noioso? No, mamma! La danza è bellissima! Posso andare ancora alla lezione? Ora è un po' tardi, Zou! Ma la prossima settimana sì! Va bene! Facciamo ancora qualche esercizio? Ma certamente! E uno... E due... E uno... Hop! Non ci sono dubbi! Zigna è una ballerina classica nata! Ha preso tutto da me, vero? Oh! Anche Zou è molto portato! Zou, ti sei esercitato molto, vedo! Sì, con la bisnonnina! Oh, è una bravissima insegnante! Puoi insegnare anche a me come hai fatto con Zou, bisnonnina! Oh, volentieri! Capito, Zinnia? Gli esercizi iniziano sempre con un bacio della bisnonnina! Oh, è una bravissima! Forte! Eccellente! Brava! Non hai sbagliato niente, Elsie! Pensate che mi sceglieranno? Credo proprio di sì! Hai fatto un esercizio stupendo! Sì! Zou dice che può prendere solo un ragazzo e una ragazza! Ti eserciti per domani, Elsie? Sì! Molto bene! Preparati al meglio! Soltanto i due migliori ginnasti saranno scelti per partecipare alle gare regionali! Oh! Sarà molto dura allora! Pensi che il mio esercizio sia buono? Forse potrei cambiare il finale! Oh no! Non c'è bisogno di cambiare nulla! Oh, grazie! Puoi aspettarmi mentre mi cambio! Ciao, Elsie! Ciao, Zinnia! Oh! Indovinate! Mi sono esercitata nel fine settimana e sono davvero molto in forma! E la mia mamma mi ha dato moltissimi consigli! Oh! Oh! E la mia mamma mi ha dato un po' E la mia mamma mi ha dato un po' Ehi! Forte! Ottimo lavoro, Zinnia! Hai lavorato sodo nel fine settimana! E l'esercizio non mi è venuto così bene come ieri! Mi sono un po' scomposta allungandomi nella chiusura del flick-flack! Allungandoti nella chiusura di cosa? Come hai fatto a imparare quelle cose, Zinnia? Semplice talento naturale! Forte! Così dice la mia mammina! Allora, siete pronti per le selezioni regionali? Sì! Avrei voluto cambiare la mia sequenza, ma Sue ha detto che andava bene! Oh! È vero! Ma sai che forse... Vorrei partecipare alle regionali! Spero tanto di essere scelta! Ci vediamo domani! Sì, ciao! A domani, Elsie! C'è qualcosa che non va, Sue? Ti vedo preoccupato! No, è solo che... Ho detto a Elsie che il suo esercizio andava bene, ma poi ho visto quello di Zinnia e sono rimasto impressionato! E allora perché non glielo hai detto? Era troppo tardi! L'ho capito solo dopo, quando ho visto Zinnia provare il suo pezzo! E se Elsie non verrà scelta, sarà solo colpa mia! No, tu non c'entri, Sue! E non è troppo tardi per dire a Elsie quello che pensi! Sul serio? Certo che è così! Bisogna essere sempre sinceri con gli amici! Il nonno ha ragione! Devo dire a Elsie la verità, ma non credo che le farà piacere! Come posso fare? Ti alleni ancora? Zowie sarà molto fiero di te! Forse lui sì, di certo non Elsie! Oh? E perché no? Per il suo esercizio! Non è bello come lei crede! E io non so come dirglielo! Ah! Che ne dici di darle qualche consiglio? Così, come incoraggiamento! Devi essere positivo! Grazie mamma, hai ragione! In questo modo potrei aiutarla a migliorarsi! Non ci sono dubbi, Bisù! Mostrale qualche esercizio! Tu sei bravo in ginnastica! Oh, sei stata impeccabile, Elsie! Senza sbavature! Aspetta, torno subito! Ehi, Sue! Avevi ragione! Alla mamma piace il mio esercizio! Credo che mi sceglieranno per le regionali! Ehm... Sì, lo credo anch'io! Sue? Ehm... Elsie, volevo dirti che... Tesoro! Potresti riprovare il tuo esercizio? Lo vorrei registrare! Sì! Sue, stavi per dirmi qualcosa? Oh... Niente! Ehm... Pronta? Buona fortuna! Spero che ti scelgano! Grazie, Sue! E buona fortuna anche a te! Ottima esibizione, Sue! Puoi andare a sederti ora! Sei stato grandioso! Molto bene! Ho visto tutti i vostri esercizi! E quindi finalmente è arrivato il momento che vi dica chi di voi merita di andare alle gare regionali! Allora... Per i ragazzi... Sue! Complimenti, Sue! E per le ragazze... Zinnia! Sìììììììì! Ma... Sue! Mi avevi detto che il mio esercizio era bellissimo! E lo era! Solo che... Beh... Avresti dovuto migliorarlo... Tecnicamente. E perché non me l'hai detto prima, allora? Io... io non volevo ferirti. Ma noi siamo amici e gli amici sono sinceri fra di loro. Ehi, Zu! Siamo stati scelti solo io e te! Già. Bravissimo, Zu! E anche tu, Zinnia! Incredibile, il tuo esercizio era veramente fantastico, Zu. Grazie, nonno. Anche se... è un peccato per Elsie. Sì, ed è stata colpa mia. Hai ragione, avrei dovuto dirglielo. Oh, spero che abbia un'altra possibilità. Forse potresti chiederlo a Zawi. Sì, vado subito. Ehi, aspettami! Elsie potrebbe fare un altro esercizio. È gentile da parte tua pensare a lei. Ma ormai è troppo tardi. Hanno già il tuo nome e quello di Zinnia. Ma si eserciterà, vedrai. E il suo esercizio sarà il più bello. Sì, non ho alcun dubbio, Zu. Ma come ti ho detto, è già deciso. Va bene. Grazie, Zawi. Sai, Pock, sei un vero amico. Senti, Zawi, mi è venuta un'idea. Sentiamo. Elsie! Dobbiamo riprendere ad allenarci. Zawi ha detto che vuole vederti in un altro esercizio. Ma non c'è tempo per prepararne uno nuovo. Sì che c'è. Ti aiuterò e ci divertiremo. Che ne dici? Sì, ma... D'accordo. Proviamo. Allora, partiremo con una ruota. Bello! Così l'esibizione inizierà alla grande. Sono veramente bravi. Ottima esibizione, grandioso. Davvero molto, molto bene. In effetti, vi siete meritati di andare tutti e due alle gare regionali. È un sogno! Zawi, e Zinia allora? Oh! Sì, tutti sanno che ci sono solo due posti. È così, infatti. Ma Zu mi ha ricordato che quest'anno c'è la gara a coppie, oltre ai singolari. È così, invece di avere due partecipanti per i singolari, avremo... Io e Elsie per la specialità in coppia. E Zinia, che farà il singolo. Ah! Fortissimo! Grande trovata! Andremo tutti e tre, allora! Grazie, Zu. Non sarai mai andata alle gare senza il tuo aiuto. Posso venire a fare il tifo per voi? Certo che puoi venire, Zack. E verrà anche Poca ad aiutarti.